un saluto e una bacione dal vostro italo fifa gamer benvenuti in questa mini live che vi voglio spiegare alcune cose perché io non sto facendo video in questo momento su youtube itali il motivo è molto semplice perché stiamo programmando con un altro grosso youtuber per lunedì prossimo per l'uscita dei toti una mega live sul suo canale il canale dancolo 83 iscrivetevi al canale lui un grandissimo youtuber un grandissimo intrattenitore ha degli ottimi numeri ha un ottimo seguito mi ha invitato mi ha invitato a fare un mega pack opening nel suo canale quindi io vi stra invito a passare dal canale di dancolo 83 e di lasciare un like e iscrivervi al canale vi invito lunedì all'ora e circa verso le ore 20 e 45 20 e 30 20 e 45 faremo un mega pack opening veramente un grandissimo pack opening apriremo 24 mila fifa point penso se non addirittura di più alla ricerca di qualcosa di eccezionale proprio non lo faremo per farvi divertire lui è molto simpatico ci sono pure degli altri ragazzi che collaborano che sono simpaticissimi faremo un formato un spacco il pacco sta eccezionale vi divertirete non sarà il solito pack opening che fanno tutti gli altri youtuberi o come lo faccio io tradizionalmente cioè io lo farò più o meno sempre nello stesso modo ma ci saranno delle altre cose che riempieranno il contorno di questo mega pack opening alla ricerca di qualcosa di eccezionale quindi passate dal canale di dancolo 83 iscrivetevi guardate ogni sera fa le live fa 200 minimo spettatori di live i spettatori durante la live per un canale di 5500 iscritti e sono ottimi numeri far ride fa tantissime cose bellissime lui è un mago nella compravendita poi ci sono pure altri youtuber che collaborano poi c'è pure top games che voi lo conoscete molto bene che collabora pure siamo dei canali diciamo amici quindi lunedì sera alle ore 20 e 30 20 e 45 sul canale di duncon 83 ci sarà italo fifa gamer che insieme a lui a tutta la ciurma spacchetteremo il finimondo alla ricerca di qualcosa di far diventare questo pack opening epico noi ci vediamo lunedì un salutone una bacione dal vostro italo fifa gamer iscrivetevi e lasciate un like ciao belli che quasi vola ciao a chi chi ciao